Benvenuti ragazzi, sesta lezione di italiano ancora incentrata sui promessi sposi di Manzoni. La volta scorsa abbiamo fatto tutte le premesse generali della concezione dell'opera, dei significati, delle intenzioni dell'autore, adesso entriamo nel vivo della storia e della vicenda. Per quanto riguarda la vicenda vera e propria, cioè quello che succede, dovete saperla. Non sto qui a riraccontarvi la storia che avreste dovuto a suo tempo leggere in seconda o che comunque credo che debba appartenere al bagaglio culturale di ognuno. Magari non nei dettagli, ma a grandi linee bisogna sapere la trama. Quindi addirittura il vostro libro non c'è neanche in forma di riassunto, vada per scontata. E credo che sia anche giusto. Chi avesse dei dubbi atroci proprio sulle vicende strutturali dei promessi sposi, vada ad aprirsi una qualsiasi pagina di riassunto di Wikipedia o di qualsiasi altro tipo e si dia una bella rinfrescata. Va da sé che ovviamente i promessi sposi sono un romanzo corale in cui Manzoni ci descrive una straordinaria galleria di personaggi, molto ampia e molto varia. Andiamo dai personaggi principali, che ovviamente sono i due protagonisti, cioè Renzo e Lucia, i promessi sposi, circondati da tutta un'altra serie di personaggi di grande importanza. Don Rodrigo, che è ovviamente l'antagonista, quello il nobile signore spagnolo che per capriccio scommette con il cugino Conte Attilio che riuscirà a far su a Lucia e da lì si innesca tutto il dramma della vicenda, del matrimonio prima negato, poi della fuga e poi di tutte le vicende che ne seguono. Altri personaggi fondamentali della vicenda sono ad esempio Don Abbondio, il classico curato di campagna, simbolo della debolezza di carattere di questo personaggio assolutamente non all'altezza del suo ruolo, sempre disposto a piegarsi al servizio dei potenti e dei prepotenti per paura di subirne poi eventuali conseguenze. Il controaltare di Don Abbondio è Fra Cristoforo, il frate del convento vicino che invece, a parte le origini del personaggio di Fra Cristoforo, che sono magnifiche, uno dei capitoli più belli è la storia di Fra Cristoforo, ma tant'è che invece rappresenta il frate umile che fa fino in fondo il suo dovere di pastore delle anime in difficoltà e che si batte in prima persona per aiutare i due giovani. C'è tutta una carrellata di personaggi potenti, aristocratici, di alto rango, che si distinguono sia nel bene che nel male. Pensiamo ad esempio alla monaca di Monza, questa donna di nobilissime origini, costretta con la forza dal padre a farsi suora e a diventare di fatto la badessa del monastero di Monza, dove ne fa di tutti i colori, riceve amanti e ogni altro tipo di nefandezza, fino ad arrivare a quella che riguarda direttamente la nostra vicenda, cioè che per favorire un suo amante consegna Lucia ai cattivi, Lucia che invece era andata nel monastero per cercare rifugio e protezione. Ma ad esempio non possiamo non citare due giganti del romanzo, il cardinale Federico, che potrebbe essere un po' il controaltare della monaca di Monza, cioè questo religioso di altissimo profilo, cardinale, che invece rappresenta questa figura quasi di santo, che si batte per la giustizia, in aiuto del popolo, presente per le strade di Milano durante la peste, sempre pronto ad aiutare e a derimere questioni. E poi ovviamente la figura fondamentale del romanzo, quella dell'innominata, che è un po' la chiave di volta di tutto il romanzo, perché è quello che prima è strumento del male, al soldo ingaggiato da Don Rodrigo, fa rapire Lucia, la sta per consegnare al suo carnefice, ma in questa notte, in questa famosa notte dell'innominato, ecco che diventa strumento invece della provvidenza, c'è la conversione dell'innominato, stimolato dalla presenza nel suo castello di Lucia, che lui percepisce come una vittima sacrificale, che lo condiziona con il suo candore, con la sua innocenza, tant'è da indurla questa conversione clamorosa, che di fatto ruota la vicenda, perché l'innominato, anziché consegnare Lucia a Don Rodrigo, la consegnerà poi nelle mani del cardinale Federigo, per riportarla a casa. Ma dell'innominato parleremo poi dopo. E poi c'è tutta un'altra serie di personaggi che veramente ci racconta un mondo, perché c'è magari il mondo della borghesia rappresentata dalla quasi proverbiale, oramai figura dell'avvocato, a zecca garbugli, anche lui un professionista, ma in realtà al soldo dei potenti, che in questa vicenda tragicomica pensa che Renzo abbia commesso un crimine, allora lo vuole aiutare, quando invece capisce che Renzo ha subito un'ingiustizia, tra l'altro procurata da un potente come Don Rodrigo, lo caccia via, come diranno, no, no, non ci posso fare niente, vada via, vada via. Personaggi più invece decisamente popolari, come l'amico di Renzo Tonio, o come i bravi, queste figure di questi banditi, mercenari, ingaggiati dai signorotti di turno per far valere con la forza la propotenza di questi signori. Le scene famose della peste per le vie di Milano, che oggi più che mai sono attualissime, abbiamo fatto anche un tema su questo argomento, anche lì emergono personaggi commoventi, come la figura della madre con la bambina morta di peste tra le braccia, interessantissima, ad esempio la figura di Don Ferrante, questo scienziato, che pensa che la peste in realtà sia da attribuire agli astri, al movimento, a una strana congiunzione astrale, quindi dice, ma non c'è da prendere, è inutile bruciare i vestiti, o prendere precazioni igieniche, tanto dipende dall'assetto dei pianeti, e ovviamente poi di peste ci muore, no, questa cosa anche molto simbolica, che oggi ci suona anche abbastanza forte, visto l'esperienza che stiamo vivendo. Ma è chiaro che in questa magnifica galleria di personaggi, che ripeto, ci sono i buoni e i cattivi a qualsiasi livello sociale, in qualsiasi ambito, ci sono i religiosi bravi, i religiosi cattivi, i ricchi bravi, i ricchi cattivi, i popolani bravi, ma non ci vuol dire, che non è il tuo rango sociale, o il tuo lavoro, che dice chi sei, ma è come tu scegli di agire, e di comportarti, la responsabilità individuale, il libero arbitrio, che dice che uomo sei, ed è questo, quel famoso motore della storia, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè l'azione individuale di ognuno, che nel bene e nel male, indirizza la storia, quella grossa, quella con la S maiuscola. Ma è chiaro che i due personaggi, su cui vogliamo porre maggiormente l'attenzione, sono i due protagonisti, cioè Renzo e Lucia, sono due personaggi, che nel corso del romanzo, subiscono una trasformazione, quindi sono i classi esempi, di personaggi dinamici, non dinamici nel senso che si muovono, ma che si trasformano, loro come esempio, anche ovviamente l'innominato, che cambia totalmente l'atteggiamento. Ma ripeto, torniamo a Renzo e Lucia, sono due tipi di trasformazione, di formazione diversa. Quello di Renzo è veramente una trasformazione proprio nel modo di comportarsi. Renzo è un ragazzo molto impulsivo, ribelle che non accetta l'ingiustizia, vorrebbe reagire, anche poi nelle famose scene dell'assalto del forno per le strade di Milano, partecipa, si dà da fare, vorrebbe farsi giustizia con la violenza, inneggia la folla, e poi capisce che questo modo di fare è controproducente, perché l'agire, quello violento, impulsivo, porta solo a conseguenze negative. Ci sarà la sua famosa notte in cui fugge, cercando di superare l'Adda, al di là del quale sarà poi, diciamo, salvo, non più ricercato dalla polizia di Milano, in cui passerà questa notte in questo capanno fatto di preghiera, umile, come può pregare un popolano, nel ricordo di Lucia, in cui veramente capisce che l'unica è mettersi nelle mani di Dio, nella provvidenza di Dio, l'agire impulsivo e violento porta solo a conseguenze sempre peggiori. Una trasformazione, non tanto invece nel modo di comportarsi, ma nel modo di pensare, ce l'avrà anche Lucia. Lucia invece è un personaggio che già di per sé sembrerebbe più definitivo nelle sue convinzioni, e sono convinzioni semplici, ma molto solide, una fede assoluta nella misericordia e nella bontà di Dio. Ma ci sarà un cambiamento in questo approccio alla vita. Se inizialmente Lucia vive in una sorta di idilio, cioè lei pensa che se uno è bravo non fa niente di male a nessuno, prega e si comporta bene, la sua vita procederà bene. E invece non è vero, perché lei è la più brava del mondo, ma gliene succedono di tutti i colori. Qui c'è quella visione un po' pessimistica di Manzoni, per cui l'esistenza, la vita e di conseguenza più anche la storia è piena di insidie, non si è mai al sicuro dalle sventure. e quindi Lucia alla fine, quando poi proprio nell'ultimo capitolo con Renzo trarranno un po' la conclusione di questa loro lunga e travagliata esperienza, diranno proprio questo, cioè ecco, diciamo, la consapevolezza del male, la consapevolezza che nel mondo c'è il male, che va a colpire anche chi non se lo merita, anche chi non ha fatto niente per attirarselo, come è successo a lei. E questa consapevolezza è una formazione che porta Lucia a un pensiero decisamente meno ingenuo, innocuo e più maturo e consapevole. Questa è la parola chiave, no? Ed è proprio in questo che si innesca la grande, una delle grandi protagoniste della storia, che è la provvidenza, che ovviamente non è una protagonista fisica, ma che compare continuamente nella storia, soprattutto in quei momenti di disperazione, quando sembra che tutto vada male, ecco che in qualche piccolo personaggio, in una parola, in un indizio, in un segno, si avverte la presenza della provvidenza che è la mano di Dio, che fa in modo che poi le cose lentamente, in tempi e in modi che a noi piccoli uomini non è dato di sapere, però proceda tutto poi verso il bene. Però, attenzione, c'è una grossa differenza tra la concezione di provvidenza di Renzo e Lucia, che sono dei sempliciotti, ingenui, ignoranti, e quella dell'autore Manzoni. Renzo e Lucia sono convinti che la provvidenza sia una cosa che agisce nel breve periodo, nella vita di ognuno e in effetti per loro funziona, la loro ingenua convinzione alla fine si rivela esatta, perché poi alla fine la provvida sventura attraverso tutta una serie di vicissitudini li porta poi a un finale positivo. Manzoni sa benissimo che questo non può accadere per ognuno, perché se no non si spiegherebbero le migliaia di persone in cui invece le cose vanno male e che magari muoiono in povertà e tra trocci sofferenze. La concezione di Manzoni della provvidenza è a lungo termine, la storia ha un suo corso lento inesorabile, il singolo individuo se non vedrà la mano della provvidenza in questa vita ne vedrà una ricompensa nella vita eterna. Questo è lo scarto fondamentale che c'è tra la concezione ingenua dei personaggi e quella invece filosofica impegnata di Manzoni. Un ultimo accenno non possiamo non farlo rispetto al discorso linguistico, perché i Promessi Spogli oltre ad essere un'opera eccezionale per i contenuti, per il messaggio, per gli intenti, ha un valore straordinario dal punto di vista linguistico proprio per la storia della lingua italiana. Addirittura alcuni linguisti hanno detto che la lingua italiana è stata concepita e plasmata in tre successivi momenti, cioè la Divina Commedia che ne ha gettato le basi dell'italiano volgare, i Promessi Sposi che a distanza di secoli hanno poi dato le basi dell'italiano moderno e poi la televisione che ha diffuso l'italiano parlato nelle case di tutti gli italiani nel secondo dopoguerra. Piccolo accenno, esistono tre edizioni dei Promessi Sposi, la prima è del 22, era un'edizione che addirittura originariamente non si chiamava neanche ancora i Promessi Sposi, si chiamava Il Fermo e Lucia poi trasformato negli Sposi Promessi, è un'edizione ancora molto farraginosa nella trama con delle parti ampliate che poi Manzoni invece nell'edizione del 27 che è quella che inizia a diffondersi seriamente taglia e rimaneggia tutto, ma poi c'è Manzoni passerà praticamente quasi 13 anni, anzi 15 anni della sua vita a ripulire linguisticamente il suo romanzo, passerà anche un lungo periodo a Firenze dove lui dirà che andrà a risciacquare i panni in arno, cosa vuol dire? Purificare il suo linguaggio che era ancora molto pieno di dialettismi, di un linguaggio lombardo, francesismi, nell'italiano quello toscano, quello parlato dall'alta borghesia toscana che erano i figli del fiorentino di Dante, quindi il dialetto su cui poi si fonda la lingua italiana. Ecco che allora si arriva poi all'edizione definitiva che è quella che poi noi studiamo ancora adesso che è quella del 42, quindi insieme a tutte le cose importantissime che abbiamo detto di quest'opera non si può tacere anche la straordinaria importanza linguistica che quest'opera ha avuto per la diffusione della lingua italiana perché si è letto fino a farlo odiare agli studenti promessi sposi a scuola soprattutto negli anni del fine della prima unità d'Italia poi del novecento perché era un veicolo di diffusione della lingua italiana e di uniformazione linguistica di tutte le regioni italiane che leggendo quel libro lì imparavano tutti l'italiano nello stesso modo spero di non essermi dimenticato nulla se mi viene in mente qualcosa ve lo dirò a voce quando ci vediamo in video con quest'ultima lezione abbiamo completato tutto quello che avevamo da dire su manzoni e sui promessi sposi quindi da qui a breve studiate tutto e fissiamo poi a ridosso delle vacanze di Pasqua una situazione di verifica vi faccio un grande saluto non mollate e ci vediamo presto non mollate non mollate non mollate non mollate